L'Università di Foggia è primo Ateneo del Sud per tasso di occupazione e secondo in Italia per numero di corsi di studio. E' quanto affermato dal Sole24ore che anche quest'anno, analizzando i dati raccolti dall'Agenzia di Report Alma Laurea e dagli uffici placement degli Atenei, ha valutato le università italiane su opportunità, offerta formativa e vantaggi per gli studenti. La classifica e i dati raccontati mettono in evidenza il ruolo fondamentale che l'Università assume nell'accesso al mondo del lavoro. L'Università di Foggia, con una percentuale di 72,4% relativa all'occupazione dei laureati di triennale ad un anno dalla laurea, si pone in betta alla classifica degli Atenei del Sud Italia. La grande attenzione che l'Università di Foggia pone alle attività di placement e orientamento, quindi permette all'Ateneo Dauno di garantire ai suoi studenti un facile e immediato accesso al mondo del lavoro, preparandoli allo stesso già durante il percorso di studi. Un risultato importante è quello sottolineato dal report del Sole 24 Ore, frutto anche del lavoro svolto sull'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa, che con un nuovo dipartimento e dieci nuovi corsi di studio, ha permesso infatti all'Università di Foggia di raggiungere un altro fondamentale risultato. Sempre secondo il report stilato dal Sole 24 Ore, l'Università di Foggia risulta essere il secondo Ateneo in Italia per numeri di corsi di studio, offrendo di fatto un'ampia possibilità di formazione in ogni campo del sapere. Un'Università giovane a misura di studente, quella di Foggia, che scalando le classifiche nazionali risulta essere ogni giorno di più un punto di riferimento per il Sud Italia e non solo. La campagna di immatricolazioni per il nuovo anno accademico è iniziata da poco. L'obiettivo è chiaramente superare il trend dello scorso anno, con un aumento di immatricolazioni del 33% nell'anno accademico 2020-2021, l'Università di Foggia sta dimostrando di saper mettere al centro i suoi studenti e di poter offrire al territorio grandi opportunità di crescita.